Commercianti di Pescara sul piede di guerra, pronti allo sciopero per protesta contro il comune. 4 aziende e lezza per la Santa Croce, la decisione per l'affidamento dopo il 21 dicembre. Dopo di noi per i soggetti disabili, il progetto presentato è in regione dall'assessore Splocco. Cuore di rondine del comandante Alfa, il libro verrà presentato domani ad Avezzano. Cordiale saluto da gli studi di Antenna 2. In un momento in cui i commercianti di Pescara a fatica cercano di risollevarsi da una crisi devastante, il comune vuole uccidere definitivamente il commercio cittadino non si sa con quale obiettivo. L'amministrazione sta andando in una direzione totalmente sbagliata. Siamo pronti allo sciopero anche durante le festività natalizie. La ferma Confartigianato Pescara che definisce una follia, ipotesi degli aumenti fino al 230% per i servizi svolti dallo sportello unico per le attività produttive. Ad aumentare sarebbero i diritti tecnici di istruttoria che devono pagare 10 ercenti per aprire, modificare o chiudere le attività commerciali. La proposta è stata presentata dall'assessore al Suat, Loredana Scotolati, ma la stesura del documento, secondo quanto riportato dalla stampa, risalirebbe ad un periodo precedente. Ciò che serve, dicono il presidente di Confartigianato Pescara e quello della categoria commercio Giancarlo Di Blasio e Massimiliano Pisani, è una delibera immediata, visto che è sufficiente una sola delibera per dare davvero sollievo a chi il commercio lo fa sul serio, in modo professionale e con sacrifici quotidiani. La fotografia attuale della nostra città è quella di un caos totale. Bar che fanno ristorazione senza nessuna competenza e in carenza di autorizzazioni. Negozianti avventurieri che fanno saldi 365 giorni all'anno. Strade, piazze porticate in vasi da tavolini selvaggi posizionati senza alcun criterio. E venditori abusivi ovunque, accessi e scivoli per disabili ostruiti. Il comune responsabile della situazione deve porre fino a tutto questo. E ora ci spostiamo nel capoluogo di Regione per la cronaca. La Polizia di Stato di L'Aquila ha arrestato un 21enne ucraino per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Nella tarda mattinata di ieri due equipaggi delle volanti nell'ambito di un servizio di prevenzione mirato alla repressione dei reati inerenti lo spaccio di droga ai giovani, transitando in via Strinella, dopo aver notato la cessione di un involucro sospetto fra due giovani che si accingevano ad allontanarsi dal posto a bordo di un'autovettura, li hanno immediatamente bloccati, accertando che effettivamente si trattava di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nello specifico un grammo, come poi è risultato dal test effettuati presso il locale gabinetto provinciale di Polizia Scientifica. Lo spacciatore alla vista della pattuglia ha tentato di nascondere nell'autovettura altra sostanza occultata in un calzino, ma il gesto è stato notato dai poliziotti che hanno recuperato altri 15 grammi di sostanza stupefacente. Oltre all'arrestato gli agenti delle volanti hanno accompagnato in questura anche l'acquirente, un 19enne aquilano che ha ascoltato sui fatti, ha confermato di aver acquistato la sostanza dal giovane ucraino. Della attività svolta è stato infermato il pubblico ministro di turno che ha disposto di arresti domiciliari del responsabile. Oggi dopo l'udianza di convalida nel corso del rito direttissimo, l'impottato ha patteggiato la pena di anni 1 di recusione, con la sospensione condizionale della stessa. L'acquirente invece è segnalato alla Prefettura quale suntore di sostanze stupefacenti. In attesa della conclusione dell'avvertenza giudiziaria tra Regione e Società Santa Croce che fa capo all'ingegnere Camillo Colella, è giunto a conclusione almeno per la parte burocratica l'ITA per l'affidamento della concessione per lo sfruttamento delle risorse idriche della sorgente di canistro. Proprio oggi, alle ore 12, sono scaduti i termini per la presentazione delle domande relative al bando per la concessione della sorgente Sponga. Il dirigente della Regione e del settore servizio risorse del territorio e attività estrattive, Iris Flacco, ha risonato che sono state quattro le aziende che hanno risposto il bando. Due hanno sede fuori della Regione Abruzzo, mentre le altre due sono la Beverage del Gruppo Colella, società che controlla la Santa Croce e che aveva la concessione prima del nuovo bando, e la Acquessere, l'azienda che fa capo a un imprenditore locale. Nelle scorse settimane, nel corso del braccio di ferro con Colella, il vicepresidente della Regione con delega alle attività produttive Giovanni Lolli, aveva fatto presente che grossi gruppi del settore erano interessati alla sorgente di canistro. Come detto, ha in corso una due avvertenza giudiziaria tra le attuali proprietà della Santa Croce e la Regione. A riguardo i giudici amministrativi, hanno intimato la Regione di accettare le domande, ma di sospenderne l'apertura e l'esame fissato l'udienza per la sospensiva il prossimo 21 dicembre. Fino a quella data, quindi, non si potrà sapere chi sarà il nuovo gestore. In questo contesto restano incerti i destini dei 75 dipendenti della Santa Croce, che sono in mobilità e che presto verranno licenziati. Materassi, bottiglie di vetro, di plastica, numerosi sacconi pieni di ogni genere di rifiuti indifferenziati, oltre a scarpe con tacchi e spillo, oggetti di bario da donna. Sono 700 i chili di rifiuti indifferenziati, raccolti dalla squadra di operai della società Tecneco, della società che gestisce la raccolta dei rifiuti di Celano, presiduta dall'imprenditore Umberto Di Carlo, che hanno ripulito il letto del fiume dove era stato gettato di tutto. Si tratta di una zona molto frequentata anche dagli sportivi, oltre da chi vi si reca per fare visite ai propri cari, in quanto da qualche anno sono stati tracciati dai sentieri. Gli operai hanno lavorato tirando con delle corde i rifiuti più pesanti, poi caricati su diversi mezzi. L'obiettivo della bonifica di Rio Pago è stato fissato più volte anche dal sindaco Settimio Santilli, sempre attento alla cura e alla pulizia della città, soprattutto nei punti più a rischio di discariche abusive. È stato presentato a Pescara, nella sede regionale, il progetto Dopo di Noi, in favore dei soggetti disabili. Vediamo il servizio. Un fondo di 1.980.000 euro per finanziare la realizzazione in Abruzzo, di appartamenti destinati ad ospitare soggetti disabili nel momento in cui non potranno più contare sull'assistenza della propria famiglia d'origine. Il progetto è stato presentato questa mattina a Pescara dall'assessorale politiche sociali Marinella Sclocco, dal dirigente del Dipartimento delle politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Ferrante, e della parlamentare Maria Amato. Le risorse attestate alla nostra regione rientrano nel profondo della legge nazionale sul Dopo di Noi, approvata lo scorso giugno, che prevede misure di assistenza, cura e protezione per le persone con disabilità grave, orfane o senza sostegno familiare. La norma, in particolare, punta ad attivare e potenziare programmi volti a favorire percorsi di supporto alla domiciliarietà in abitazioni o gruppi appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengono conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave. Il regolamento attuativo della norma e del relativo bando regionale per accedere ai finanziamenti saranno pubblicati nei prossimi mesi. In Abruzzo ha spiegato l'assessore Sclocco, in passato abbiamo già avuto alcune esperienze pilota di questo tipo che hanno portato a risultati importanti grazie alla collaborazione che si è instaurata tra istituzioni, associazioni di volontariato e famiglie che hanno lavorato insieme per un obiettivo comune, quello cioè di assicurare una vita dignitosa e per quanto possibile indivendente a chi si trova già a vivere una situazione di grossa difficoltà. Ascoltiamo comunque l'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco. Un finanziamento di 1.900.000 euro per la realizzazione di mini appartamenti da destinare ai ragazzi disabili e portatori di disabilità nell'ambito delle leggi nazionali sul dopo di noi, quella cioè per assistere che si trova in difficoltà quando dovrà vivere autonomamente quindi senza più l'aiuto delle famiglie. Siamo con l'assessore regionale alle politiche sociali Marinella Sclocco, assessore un risultato davvero importante. Sì, finalmente in Italia ha un risultato di civiltà e di diritti. Grazie a questa legge l'Abruzzo avrà quasi 2 milioni di euro per poter creare questi appartamenti e per poter dare una possibilità, una chance di autonomia ai disabili quando i disabili non avranno più i propri genitori che li accudiranno. Questa mattina abbiamo, grazie a Alfredo Ferrante che è un dirigente del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, diciamo poi colui che si è davvero occupato dei decreti attuativi di questa legge, grazie a lui abbiamo capito quali sono le possibilità, in che modo l'Abruzzo e gli abruzzesi potranno coglierle e sfruttarle al meglio per i nostri disabili. Chi potrà accedere a questi finanziamenti, Assessore? Coloro che vorranno creare delle strutture fatte da 5 posti letto, perché le strutture dovranno essere delle vere e proprie case, quindi non strutture di comunità, ma piccole case proprio con operatori. Naturalmente i disabili non verranno lasciati soli, con operatori che aiuteranno i ragazzi, quindi prevalentemente associazioni. Domani sabato 17 dicembre alle ore 12 nella sala consigliare del Comune di Avezzano si trarà il Consiglio Comunale straordinario per il conferimento della cittadinanza onoraria al professore Natalino Irte, professore universitario, avvocato illustre, scrittore grande intellettuale avezzanese. Alla cerimonia oltre al sindaco Giovanni Di Pangrazio, al presidente del Consiglio Comunale Domenico Di Berardino, saranno presenti Assessori e Consiglieri Comunali, sindaci della Marsica, l'onorevole Giovanni Legnini, vicepresidente del CSM, il Vescovo di Marsi Monsignor Pietro Santoro, Giuseppe Di Pangrazio, presidente del Consiglio regionale, il presidente della regione Luciano D'Alfonso, Gianni Letta, il senatore Filippo Picconi e autorità civili e militari. Nel Consiglio regionale del 13 dicembre scorso non si è arrivati a poter discutere il documento di economia e finanza regionale, perché la maggioranza si è sfaldata intorno alle 21 e di conseguenza è slittata anche la possibilità di prendere in considerazione e mettere in programma il salvataggio del Tribunale di Avezzano e degli altri tribunali soppressi. Ci auguriamo, tuttavia, ha affermato il consigliere Gianluca Ranieri, che si possa cominciare al più presto a porre le basi per una programmazione di interventi che conduca al salvataggio del presidio di giustizia marsicano e degli altri meritevoli di tutela. Ranieri ha poi parlato del previsto incontro di sabato 17 dicembre, organizzato dai presidenti della giunta del Consiglio regionale D'Alfonso di Pangrazio negli uffici di Viale Bovio. Ci auguriamo che questo incontro non sia solo l'ultimo tassello di un percorso dilatorio, il cui fine ultimo sembra essere quello di condurre alla consunzione i presidi soppressi. È ora che la Regione si assuma la responsabilità di una scelta. Il Movimento 5 Stelle parteciperà alla riunione con i suoi rappresentanti in Parlamento per difendere e riaffermare quel diritto di equo accesso alla giustizia che rischia di scomparire per oltre 420 mila abruzzesi e che dovrebbe essere difeso non soltanto dai professionisti del diritto ma da tutti i cittadini. Si tratta di una battaglia che non è politica ma civile e che vogliamo condurre assieme a tutti i rappresentanti del territorio di ogni schieramento, conclude il Consigliere Pentastellato, perché vengano salvaguardati in particolare quei presidi, quei territori, solverebbero il danno maggiore della chiusura per l'ampiezza dei bacini di riferimento per il loro ruolo di fondamentale e baluardo contro l'infiltrazione della criminalità organizzata poiché posti al confine con il Lazio e il Molise. Favorire l'insediamento in Abruzzo di nuove realtà produttive attraverso un percorso virtuoso che passa da una straordinaria semplificazione dei procedimenti amministrativi fino ad arrivare alla fiscalità di vantaggio. È l'obiettivo principale della proposta di legge regionale, regione facilissima per le imprese, misure a sostegno del sistema produttivo regionale, presentata oggi pomeriggio a Pescara dal Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, in un incontro a cui hanno partecipato, Presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Compiabruzzo, Tommaso Miele, Presidente del Tarabruzzo, Antonio Amicuzzi, il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini. Spaditezza e velocizzazione, sottolineato D'Alfonso, vanno concepiti come elementi basilari dell'attività amministrativa della regione, che rappresenta l'istituzione qui spetta a farsi interprete delle vocazioni dei propri territori, favorendone l'effettiva competitività per lo sviluppo e la crescita delle diverse realtà. E siamo convinti che la semplificazione sia realmente l'autentico volano dell'economia non solo regionale, ma dell'intero paese. Entrando nel dettaglio delle principali misure previste dal testo normativo, che unifica e armonizza le discipline europee, nazionali e regionali, in tema di impresa. La più importante è senza dubbio, rappresentata dall'assistenza e tutoraggio alle imprese tramite la figura del facilitatore di impresa, che le assiste dall'avvio alla conclusione dei procedimenti. L'obiettivo che puntiamo a centrare e ambizioso, ha concluso il Presidente della Giunta regionale, è appunto a creare una sorta di regione a procedimento zero, in cui alla ricezione dell'istanza dell'interessato, segue immediatamente l'avvio dell'attività dell'impresa. È stata convocata per sabato 17 dicembre, con inizio alle ore 9.30 presso l'Hotal Promenade di Montesilvano, l'Assemblea regionale congressuale degli iscritti dell'Udc d'Abruzzo, che sarà presieduta dal Segretario nazionale l'Onorevole Lorenzo Cesa. In una nota si specifica che il passaggio congressuale servirà per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale dell'Unione di Centro e per il rinnovo degli organi statutari, a cominciare dal Segretario regionale. Si tratta di una fase rilevante non solo per la possibilità di rinnovare un gruppo dirigente pienamente legittimato dal consenso degli iscritti, ma anche per definire ulteriormente la linea politica del partito. L'Udc ha una salda tradizione in Abruzzo, afferma il commissario regionale Enrico Di Giuseppe Antonio, e per questo saremmo impegnati alla sua riorganizzazione, fondamentale per tornare ad essere una forza propositiva, ma anche attrattiva per i giovani. Un partito che diventi una palestra di formazione dove si riscopera il desiderio di partecipazione alla vita politica. Oggi pomeriggio, nella sede della Fondazione Antiusura, giubileum presso la curia diocesana di Avezzano, il vicario generale Don Paolo Ferrini, a nome del Vescovo de Mersi, Monsignor Pietro Santoro, ha consegnato a Angelo Lumberdozzi l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, alla presenza dei componenti del Consiglio Direttivo e dei collaboratori della stessa fondazione. Già il direttore di banca ha dedicato quasi 20 anni di lavoro totalmente gratuito nella Fondazione Antiusura Giubileum, che svolge la sua attività nella regione Bruzzo, ma va presente in tutte le diocesi, con sette uffici operativi. In tale fondazione Angelo Lumberdozzi ha ricoperto dapprima la carica di segretario generale e poi quella di presidente, ma oltre all'impegno in ruoli specifici è stato l'anima di tutto il lavoro svolto dalla Fondazione. Grazie alla sua eccezionale competenza in ambito bancario, alla sua capacità di coordinare le mansioni dei vari volontari, non anche alla sua incomparabile dedizione per la causa delle persone in difficoltà economico-finanziarie, sono state risollevate le sorti di centinaia di famiglie. Sabato 17 dicembre, dalle ore 17, la conferenza del Comune di Avezzano si terrà la presentazione del libro Cuore di Rondine, scritto dal comandante Alfa, fondatore del gruppo Intervento Speciale dei Carabinieri ed è edito dalla Lunganese. L'evento è stato organizzato da Tiziano Genovesi, che è il vicepresidente ACI Provinciale. Durante l'incontro con l'autore si parlerà del libro, ma anche della storia del comandante Alfa di antiterrorismo, della fondazione del gruppo Operazioni Speciali e delle sue numerose missioni all'estero. Durante tutta la manifestazione, come di consueto, il comandante Alfa indosserà il passamontagna militare che gli permette di mantenere l'anonimato. L'evento a cui sono state invitate tutte le forze dell'ordine cittadine, provinciali e regionali e le più importanti autorità civili e religiose sarà di grande rilievo, principalmente perché per la prima volta il comandante Alfa farà tappa in Abruzzo. L'ingresso è gratuito ed aperto al pubblico. Riguardo ora, ascoltiamo, Tiziano Genovesi. Tiziano Genovesi, vicepresidente provinciale dell'ACI, si presenta in una veste in solida, cioè quella di presentare un libro. Domani, nella Sagunzella del Comune di Avezzano, verrà infatti reso pubblico il cuore di rondine del comandante Alfa. Intanto, perché tu a presentare questo libro? Perché abbiamo una conoscenza con il comandante Alfa, che è il fondatore del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri, quindi è un massimo esperto di sicurezza nazionale ed internazionale. Ha accolto il mio invito a presentare il suo libro, Cuore di Rondine, ad Avezzano e per parlare di sicurezza Avezzano, perché comunque in questo momento storico è importante parlare di sicurezza. Non ho avuto il piacere ancora di leggere il libro, quindi puoi sintetizzarci un po' il senso e il significato. Non svegliamo molto, perché comunque lasciamo la curiosità ai telespettatori di venire in presentazione, vedere il comandante e poi leggere il libro. Però sostanzialmente il libro parla della storia del comandante. Dall'inizio della loro avventura all'interno dei gruppi speciali di intervento, passando per le varie missioni nazionali e internazionali che ha fatto il comandante. Se pensiamo che il comandante Alfa ha vissuto tutti gli anni di piombo della storia dell'Italia, ha perso dei cofondatori del gruppo insieme a lui nella strage di Nasseria, quindi è un personaggio che catalizza molto l'interesse della collettività e crea molto fascino e molto entusiasmo attorno a sé. Sarà presente naturalmente? Sì, sì, il comandante sarà presente, partirà la mattina dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri e ci raggiungerà nel primo pomeriggio qui ad Avezzano. Faremo sicuramente un giro per la città, gli farò vedere la nostra bella città, gli farò vedere alcuni punti critici della nostra città, anche per approfittare della sua presenza e della sua esperienza per cercare di farci dare qualche consiglio come migliorare la vivibilità in termini di sicurezza della nostra città. Un tema attualissimo, quella della sicurezza in città, nei grossi centri è stato affrontato anche con l'intervento dell'esercito, nei piccoli centri è comunque sentita, quindi un suggerimento, un consiglio è importante. Appunto, vista la nostra conoscenza ho approfittato, tra virgolette, di farlo venire proprio ad Avezzano insieme a lui per valutare questa tipologia e anche per parlare del discorso più ampio che può essere della Marsica, quindi affrontare anche i vari discorsi visto l'aumento della criminalità, visto anche in altri comuni quello che sta succedendo, prendiamo ad esempio Milano che il sindaco ha chiesto l'intervento dell'esercito, proprio per farci dare un parere da uno dei massimi esperti internazionali in questo tema. ma cercheremo poi di mettere questi consigli a frutto e cercando di condividerli anche con eventualmente con l'aggiunta comunale e vedremo poi da farsi. Ecco, proprio questo volevo chiederti, siccome l'incontro e la presentazione si terrà nella sala consigliata del comune con la presenza del sindaco e di altre autorità, pensate di coinvolgerli appunto? Sicuramente sono state invitate tutte le massime cariche regionali, faremo un passaggio anche sull'arma dei carabinieri stessa, quindi abbiamo invitato proprio tutte le forze dell'ordine proprio per condividere questo momento che è la presentazione del libro del comandante ma soprattutto è confrontarsi e confrontarsi tra tecnici su tutte quelle che sono le dinamiche della sicurezza. Sicuramente il sindaco è stato invitato, è stato invitato il presidente della regione, quindi spero che possano partecipare all'evento per renderle l'evento più interessante per comunque fare un intervento di confronto tra le varie forze, tra i vari attori della sicurezza. Per i profani, comandante Alfa, un nome di copertura o perché? È il nome che è stato dato al comandante che ricordo interverrà in divisa operativa e con il mefisto che è il passamontagna di ordinanza perché visto proprio la specialità per la quale hanno fondato l'IGIS non può girare a volto scoperto perché comunque il suo volto è segretato, così come il nome. Per quanto riguarda invece la sua attività mi hai detto già che ha svolto importanti ruoli. Sì, ha combattuto gli anni di piombo, è stato in missione a Nasseria, ha svolto molte missioni, collabora con tutti i massimi sistemi mondiali per quanto riguarda la sicurezza e l'intelligence nel mondo. Per concludere, un invito a chi vorrà partecipare, le motivazioni per cui li inviti? L'invito è soprattutto perché comunque è una bella persona a livello proprio umano perché la sua storia è molto interessante perché oltre a raccontare quelle che sono state le missioni, racconta all'interno del libro quello che è lo spaccato della vita, lo stare lontano dagli affetti per sacrificarsi e per mettere a disposizione della collettività questa sua professionalità, quindi è molto molto affascinante. Quindi penso che, come ha anticipato, l'aspetto è un po' delicato e se vogliamo che deve far riflettere quello che lui ha perso molti amici, molti incompattimenti. Ha perso comunque i cofondatori del gruppo perché ricordiamo che uno in particolare è molto nella strage di Nasseria e è molto bello l'aspetto umano della sua presentazione perché comunque oltre a quello che viene conosciuto come il suo nome di battaglia, tra virgolette, racconta proprio il suo spaccato di vita personale, lo stare lontano dalla famiglia, dover partire per le missioni e quindi dover partire con la speranza di tornare e di non perdere uomini, quindi mostra proprio il lato umano di quello che è il comandante Alfa. L'importanza poi di lavorare in incognito? È quella l'importanza di lavorare in incognito per tutelare se stesso e soprattutto per tutelare la propria famiglia. Il Natale è alle porte, il tradizionale scambio di auguri, non può mancare al Centro Italia Nuoto di Avezzano. Appuntamento per sabato 17 dicembre nella terza esilarante edizione del film Senza Frontiere, la manifestazione organizzata nel Centro Federale di Avezzano, collaborazione con il Centro Italia Nuoto presso la piscina comunale di Avezzano a partire dalle 15.30. Tutti i bambini iscritti nella scuola nuoto della FIN e della Palasporta di Celano prenderanno parte ai giochi organizzati dallo staff, unendosi in squadre per affrontare un percorso davvero originale. Due gonfiabili in acqua con scivoli veri e propri, gommoni trenati da un bordo all'altro cercando di evitare gavettoni e secchiate d'acqua. Venitorneo di palanuoto, ciambellate, staffette con raccolta di palline, oggette galleggiante, insomma colori sorrisi e divertimento e alla fine una visita speciale, Babbo Natale con la consegna di caramelle per tutti i partecipanti. E questa era l'ultima notizia. Prima dei saluti, noi come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antennaduitv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Dunque grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci.